ragazzi oppure buongiorno buonasera dipende da che ora vi trovate a guardare questo video sempre se volete guardare questo video e non lo so andiamo avanti andiamo con la lana dello dropper perché mi piace lo dropper il dropper è dropper il dropper che è un attimo de 2012 the codec the dive the jungle the bubble giustamente red and trouble facciamolo insieme da questo drop drop motherfucker oddio devo andare sul ghiaccio a fa male quasi muore bisogna recuperare un po' di vita che lui si incula acqua dato che io direi di dropparci su questo qui che bisogna cadere che non so se è uno drop più basso speriamo di morire oddio dai prendi vita ma mi sa che quel video non si perde andiamo avanti andiamo vita andiamo avanti andiamo avanti andiamo un attimo usiamo il tasto su shift e la madonna speriamo che riusciamo a fare sta provata no no vabbè droppati non ci posso fare era così andava tutto così bene come dovevo muovere troppo dai dettagli prendiamo vita con velocità un bello pericina wiguiiiii ah qua c'era risp replenare cappi perentrindi no male dai recupera vita si buttà 3 3 3 di vita dai 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 3 cuoricini 3 bellissimi cuoricini ma se io faccio lo stronzo a manco posso farlo si non so tak scendiamo e la madonna mi sa che siamo un po sorrini no no siamo scesi zizi 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 abbiamo scenduto mamma mia meno male abbiamo failato tutto il poligone sti cazzo di nuvole aspettate un attimo tolgo le nuvole uso che impostazioni di uno pacchetti di suus dov'è? guardate un postazione di video ok così almeno siamo più tranquilli e più facile diventa molto più facile abbassa e esce da qualche parte se buttarci così al capofitto non c'è senso qua non ci arrivo manco qua dobbiamo fare una provata andiamo giù dai che si vede già il terreno aia dei campi che si saranno freddurare ormai povero stevie ormai a forza di cadere oh se le fratture le case ma pure i coglioni se le saranno freddurare non c'erano freddurare che io tu puoi pazzi di niente aia dai che siamo così scesi no ancora non aspetta ti 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 b a b c aia aia adesso toccherò prendere qui qui e fare così oh oh my god look your eyes grandissimi no 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 ok ok uno ce l'abbiamo fatta ma docca del waft da drop da 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 come questo è successo oh no ma allora è proprio stronzo questo è più difficile mezzo e mezzo cazzo questo è molto più difficile no allora cambiamo livello eh 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 direi drop ma questo è ancora peggio devo entrare nell'acqua proprio no per un centimetro di millimetro dai eh vabbè eh vabbè eh vabbè ah questi bar vabbè ma speni quella voce da gallina eh che non conoscesse Riccardo il tutto è grande Uhhhh Uhhhh porr 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 cani No vabbè Poi non c'ho le misure Vabbè dove le dà Taglie Sfidami il bordo Boom E questo è già pure fatto È già fatto Non mi rende mai male Adesso toccare il rosso Vediamo che bisogna fare No vabbè No 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 basta Ma io boh Guarda il segreto Devo rimanere fermi Non mi rende fermi No No vabbè Cambia Ancora è troppo difficile Drop the bass Vediamo Che va più veloce Ogni volta Va bene Aspetta Ricopriamo vita Facciamo un po' E' abbastanza La situazione Freghiamo un po' la mappa Vediamo se ci riusciamo No eh Ma proprio zero Qua proprio zero De danno Cos'è la carta? Chi sei questa carta? Ah e poi muori così Ho capito Vediamo un altro Questo qui dovrebbe essere facile Drop Sì Drop Un cazzo Ora è meglio Il parkour Quanti cazzo Prendere una lana No Non è impossibile Allora Questo è improbabile Cioè se quelli erano difficili Pensa Quello 2 Il 2 dai Il wafter Mi ispira Molto E' molto Serve un wafer Che bella Che cavino eduquato 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 Ma no Ma no Ma no Ma tamma Ah qui viene Le uccisioni Giustamente Uccis Manca uccisioni Ah uccis Giustamente Ti pare Ma parca Ma che che faccio Tipo Una parata Uuuuuh Non è niente Ma da tempo Babby Che madame Hai sta Ma parla Madame che sta Non ho visto Solamente il jungle Non il jungle E' quello Ma che è davvero Una cazzata Bisogna cadere su Su che? Aspetti Aspetti Facciami I flettel Ma dove devo cadere? Non cosa sapere? Uuuuuh Pfff No vabbè E' un boh E' bene Bene Quello che finisce male Che si Perché bene Nooo 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 Ma che è Qual mano è? Nooo Che non mi fa Prendere Lo slime Vabbò Nooo 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 Che dobbiamo fare con questo Che dobbiamo fare con questo Nooo Nooo Vabbè 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 Cosa è successo? Vabbè Ad me Vabbè Allora Ragazzi È finito questo episodio Per colpa di troppi fail Ci vediamo al prossimo Ciao A tutti Da tazzo E toto Tutto Musica